mitici grandissime mitiche grandissime golem gates vediamo un po di tutorial in quanta roba vai di missione tutorial impariamo a controllare il potere il potere infinito del nostro golem questo è un gioco fichissimo che ho trovato sullo store ragazzi la tua energia, la tua energia, ok, tattica ofensiva ok, lui muove così selezioniamo ah ok selezioniamo 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 distruggire mitiche ok ah ok questo è giù perfetto ok partendo ix ok perfetto 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 ok uguale il giovane la squadra è ora ok ripristinata di energia risultate anche per forgiare strutture difensive ok questo che cos'è grico trappola ok si 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 lascia la melmazza ok c'è un generatore più avanti ok ci stanno muovendo da soli ok così bisogna il punto di controllo prima devi togliere il loro comando e poi bisogna selezionare il nostro comando bello ok 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 ma stagione credibile ok ce l'abbiamo fatta l'araldo è l'uccellino che viaggia eccolo qua no 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 non mi ricordo più come come si curava ma il capo no cioè anche lui combatte eh questo che cosa sta a fare così perché non si cura perché non curano abbiamo armata un po più sta mescolando le carte mi sa andiamo un po Ah 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 Allora che le persone siste più giudicati Ah 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 Allora che le persone siste più giudicati Wow Signora dei ragni E distruttore Bello Nuove nuove cose Eh E quindi si va al capitolo 1 Da Ci facciamo Prove Supervivenza Versus Andiamo al capitolo 1 Facciamoci il capitolo 1 Credevo che era un Più a rammer Che vai avanti Invece sembra che sono a tipo conquista ecco questo Non male direi E Invece A A A A A A A A Grazie a tutti. Tu sei la ragia, questa che c'è nato per soddisfare i miei scopi. Ora vai e leggimi questa terra ammalata. Abbiamo questo. Tu! Portare le icone cercherà di distruggerti. I portali icone sono le sentinelle per i nostri amici. Distruggi il portale da icone. Ci sto, ci sto. Tanta strada da fare, eh? Ok. Allora, cominciamo. Facciamo... Ok. Forse qui bisogna conquistarlo. Forse eh? Esatto. Ci vale un sacco quello di distruggere. Allora. Andiamoci. Qui. Ma il tipo iniziale, perché tu non ti muovi? Tu devi andare con loro. Qui. Ma lui non ci muovi. ... Edits chỉ nelle passe. Eri. 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 Lo d*****? Eri. Mi. Eri. oh Ok. Se lì dà una mano. Che so, la vuoi essere quello che ti vuole? Oh no Oh no Andiamo che prima o poi bisognerà Eh Adesso ho due basi Vedi Cannone in fusti Corretta Va bene Ok Andiamo di qua perché io So di certo Che se c'è in giro una torretta Prima o poi viene a scassare Come andiamo 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 a scassare Vediamo se riusciamo a prenderlo Dai Come andiamo a scassare Come andiamo a scassare Come andiamo a scassare Oh Oh Cazzo Come andiamo a scassare 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 Grazie a tutti. Giù, hanno provato ad attaccarmi e hanno preso quella in mezzo, che già non mi piace. Vediamo se ci sono cazzivoni qua. Vediamo se ci sono cazzivoni qua. Una bella vittoria, un bel troteo, un grande amico. Già che così mi piace. È un po' alla... Smite. Che c'è l'arena, tu devi andare a conquistare il territorio degli altri. No, mi piace. Trappola velenosa e sfera gelatinosa. Perfetto. Ci sta. Ok ragazzi, ci vediamo al prossimo video con questo gioco che secondo me merita, fatto bene, anche graficamente. Golem's Gates. E ci vediamo alla prossima... Al prossimo video. Ci sono tantissimi video di Markedrans Games Channel. Seguitemi, mettete mi piace, commentate. E mi raccomando, mi raccomando amici miei, seguite le mie live su Twitch e anche i social di Twitter, Twitch, YouTube, Facebook, Instagram. Twitch l'ho già detto e Discord. Ok amici? Alla prossima con Markedrans Games Channel e al prossimo video con Golem Gates. Andiamo avanti col capitolo 2. Ciao. Ciao. Ciao.